Un attimo, che emozione sarà per te il tuo esordio? È una grandissima emozione, quell'Olimpico davanti alla mia cura, alla gente romanista come me, quindi è stata una grandissima emozione. Come ti trovi a giocare oggi per esempio con Bordissi? No, no, benissimo, lui benissimo. Lui mi ha giocato tantissimo sia in allenamento che durante la partita. Per me è fondamentale questo. Ecco, ma c'è un giocatore che ti segue di più, che ti aiuta? Sì, tutti, Nicolás, anche Bazzaretti, Daniele, tutti i compagni. Per te è sapere che Zeman comunque punta su di te di fatto, perché ha voluto che tu rimanessi qui a Roma e fai parte a tutti gli effetti della rosa. Che cosa significa? L'allenatore ti parla, ti dice qualcosa? No, ma è un motivo di orgoglio. Penso che sto lavorando bene e devo continuare a fare sempre così. Quando hai seguito quando avresti giocato? Nell'ospedatorio, prima della partita. Visto il campionato di Marquinhos, ti aspetti anche tu presto di avere la tua chance in campionato? Sì, ci spero, ma non mi faccio troppe idee. Se arriva bene, se no ho tempo. Grazie.